Signori e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine solito, classico, usuale e consueto della mia libreria. Allora, cari signori, torniamo a parlare di Seconda Guerra Mondiale, torniamo a parlare per l'ennesima volta della Repubblica Sociale Italiana nella fattispecie delle sue forze armate. Allora, se ben vi ricordate, io circa un anno fa ho pubblicato un video che parlava di un libro pubblicato dalla defunta Ob and Work sulle forze armate della RSI, ovvero sia il disgraziato e, mettiamola così, pessimo esercito dell'ancor più pessimo Graziani, la breve e stentata, estentatissima vita dell'aviazione nazionale repubblicana e la marea infinita di brigate nere, bande criminali, formazioni paramilitari, corpi di polizia più o meno autonomi, servi dei tedeschi, le capiedi, SS italiane, eccetera, eccetera, eccetera. E quando dissi, circa un anno fa, che l'esercito della Repubblica Sociale Italiana aveva unità, insomma, aveva un tasso di diserzione medio del 20%, con certi reparti che raggiunsero anche quote del 50% di disertori. Eh, fui ovviamente attaccato violentemente da certi personaggi e me ne dissero di tutti i colori, dicendo bugiardo, mentitore, vergognati, non è vero, eccetera. Insomma, vabbè, che vi devo dire? Allora, a distanza di un anno mi sono ricordato questa storia e perché stavo rimettendo un attimo a posto qui e avevo tirato fuori questo qui, ovvero sia il quinto volume della Seconda Guerra Mondiale di Arrigo Petacco, un'opera che negli anni 70 fu un grandissimo successo editoriale qui in Italia, vendette veramente centinaia di migliaia di copie, e che fu curata dal defunto Arrigo Petacco con Mario Francini, Giuseppe Maida e Piero Peroni, che fecero un ottimo lavoro di ricerca e, come dire, analizzarono molto bene alcune questioni. Molto interessante è un documento reperito da Petacco e dai suoi collaboratori dagli archivi privati del Duce, dagli archivi privati del Duce durante la RSI, cioè dagli archivi della Repubblica Sociale Italiana. Un documento segreto inviato al Duce. Allora, sentite un po' qua che cosa ci dicono i fiduciari, cioè gli informatori del Duce, sulla situazione dell'esercito repubblicano in Toscana. È un esempio che però rispecchia abbastanza bene tutta la situazione delle forze armate della Repubblica Sociale Italiana a cavallo del 44-45. Quindi, cari signori, ascoltate bene perché è una lettura molto, molto, molto interessante. Allora, mentre i comandi alleati discutono sulla eventualità di proseguire di slancio l'avanzata verso le Alpi, nelle file dell'esercito della Repubblica Sociale Italiana, a distanza, nelle regioni dell'Italia centrale, la crisi è completa. Molti comandi territoriali si sono sciolti prima ancora di venire in contatto con le forze alleate. Ma ecco un rapporto segreto, diretto al Duce, redatto nel maggio 1944 sulla situazione militare in Toscana. Allora, per opportuna conoscenza si comunicano le seguenti notizie sulla situazione che regna nei comandi militari della Toscana, pervenute con la data 15 corrente mese, ovvero sia il 15 maggio, da Fonte Fiduciaria Sicura. Fonte Fiduciaria Sicura sta per informatori. Ricordatevi sempre una cosa, durante il fascismo in Italia l'unica cosa che funzionava veramente bene, del resto come in tutte le dittature, era la polizia segreta. L'ovra, gli efficaci e gli efficacissimi sistemi di informazione interna, cioè praticamente se Mussolini avesse dedicato alla guerra esterna, la stessa energia, la stessa capacità, la stessa puntigliosità dedicata alla guerra fatta contro gli oppositori all'interno, insomma, non avremmo fatto sicuramente la figura di merda che abbiamo fatto, ma questo è un discorso che ci porta troppo lontano. Dicevo, gli informatori, la rete degli informatori di Mussolini, dell'ovra delle polizie, della polizia politica fascista, continua a funzionare anche nell'agonia del maggio 1944. Quindi state a sentire bene allora. Dicevo, la fonte fiduciaria sicura ci parla della provincia di Arezzo. Allora, comando provinciale, quasi tutto il personale dipendente è fuggito alcuni giorni fa, chi alle proprie case, chi ad aumentare le file dei ribelli. I componenti del comando hanno ricevuto l'ordine di ripiegare su Bologna. Distretto militare di Arezzo, idem come sopra. Nella zona aretina è rimasta sul posto e sta svolgendo, attività di ordine pubblico e antibande, la compagnia della morte di Sansepolcro, comandata da un giovane tenente entusiasta e di provata fede. In quasi tutta la provincia la Guardia Nazionale Repubblicana ha ricevuto l'ordine di ritirarsi, lasciando, come si può immaginare, la popolazione al libero arbitrio degli sbandati e delinquenti comuni. Provincia di Firenze, 201esimo comando regionale, 60 dei componenti, lo squadrone di sicurezza alle dipendenze del comando regionale, sono scappati o si sono dati alla macchia. Il resto della truppa fu necessario accantonarlo per evitare ulteriori diserzioni. Cosa quantomeno agghiacciante se ci pensate. Tutto questo, sebbene il generale Adami Rossi ed il capo di stato maggiore Magini siano calmi e cerchino di affrontare nel miglior modo possibile la situazione. La maggior parte dei capi uffici del comando sono persone che si lasciano trasportare troppo facilmente dal pessimismo e non fanno niente per sollevare l'animo ed il morale dei dipendenti. Anzi, con il loro comportamento lo deprimono. 44esimo comando militare provinciale. Alcuni giorni orsono, 120 uomini della compagnia di sicurezza con due ufficiali furono all'alba trasportati su due autocarri verso i colli nei pressi di Galluzzo da alcuni ribelli. Diversi di questi militari sono riusciti a scappare ed hanno dichiarato di essere stati tratti in inganno perché i ribelli erano vestiti da sotto ufficiali ed avevano fatto suonare la sveglia. 44esimo deposito misto provinciale e 44esimo raggruppamento. Da alcuni giorni scappano continuamente i soldati e fino ad oggi il numero di disertori è di 400. Visitando questi comandi si ha la sensazione netta che essi non sappiano quale provvedimenti prendere ed attendono gli ordini del comando regionale. Settimo reggimento autieri. Quasi tutti i militari ivi in forza hanno abbandonato la caserma di poggio imperiale per recarsi nelle loro famiglie. Scuola di sanità. 60 allievi ufficiali medici in previsione del trasferimento della scuola al nord avvenuto due giorni or sono sono scappati. Guardia Nazionale Repubblicana. Molti carabinieri hanno abbandonato le rispettive caserme. Con gli elementi di cui dispone attualmente la Guardia Nazionale Repubblicana non potrebbe far fronte ad eventuali emergenze. Provincia di Pistoia. Quasi la stessa situazione di Firenze ed Arezzo. Forti nuclei di ribelli si attestano sulle montagne che dominano Pistoia. Alcuni giorni fa un nucleo di ribelli ha attaccato il magazzino V.E. del comando provinciale di Pistoia asportando quasi tutto il contenuto e catturando 14 uomini armati. Il magazzino fu poi incendiato. Provincia di Lucca. Grande agitazione nella popolazione. Il capo della provincia non è all'altezza del compito che l'attuale situazione impone. Nuclei di sbandati si fanno vivi da tutte le parti senza che nessuno li possa o li voglia ostacolare. Molti ponti già minati dai tedeschi sono fatti saltare dai ribelli nottetempo non essendovi nessuna sorveglianza da parte tedesca. Provincia di Apuania idem come Lucca. Provincia di Grosseto. La Guardia Nazionale Repubblicana di Grosseto da vari giorni ha abbandonato la città. I militari del comando provinciale che fino allora si mantenevano calmi vedendo che quelli della GNR si allontanavano scapparono in massa. Il comandante provinciale di Grosseto ed alcuni ufficiali del comando sono rimasti e rimangono tuttora sul posto. Grosseto e le località vicine, Massa Marittima eccetera, sono state, non appena è partita la GNR, assaltate dai ribelli. I tedeschi hanno comandato dei reparti di SS a Grosseto e sembra che abbiano ristabilito la situazione. Forti nuclei di ribelli si concentravano sui monti del Grossetano e sui poggi della Maremma. Provincia di Livorno. La situazione della provincia di Livorno peggiora di ora in ora. Il comando provinciale ed il locale distretto sono completamente disertati dagli elementi costituenti. I ribelli si sono impossessati di varie località, fra le quali Suvereto, dove hanno prelevato al completo il presidio della GNR. Negli ambienti della prefettura e del partito regna il caos più completo, caos che si rispecchia nell'abbandono più assoluto della popolazione a se stessa. Di militari non sono rimasti che i reparti della FLAC ed il locale comando marina. Conclusione. Regna il caos più perfetto nei comandi militari di tutta la Toscana. Il reclutamento regionale dei militari è dimostrato di essere inadatto sotto tutti i punti di vista. per l'ennesima volta io punto il dito contro i personaggi, i signori, i fenomeni, chiamiamoli così, che continuano a starnazzare di storia scritta dai vincitori. ripeto, la guardia nazionale, insomma, le forze armate della Repubblica Sociale Italiana avevano un tasso di diserzione spaventoso che andava dal 20, se andava bene, al 50% in certi casi. E qua non è che si tratta tanto di storia scritta dai vincitori, questi sono, è un rapporto ufficiale di un informatore, di un fiduciario attendibile che parla della situazione dello sfascio delle forze armate della Repubblica Sociale Italiana in Toscana. Si scappa, si fugge, si diserta, si va in montagna con i ribelli, i partizani che agiscono come dire, pressoché agiscono pressoché impuniti. Sì, impuniti. Cioè i partigiani, si ha l'impressione che in Toscana, i partigiani facciano quello che vogliono. Approfittando della della fuga, chiamiamola con loro nome, approfittando della fuga dei militi, della GNR, dei soldati, della Repubblica Sociale Italiana, delle delle entità addette all'ordine pubblico, i partigiani compirono spettacolari azioni dimostrative e di guerriglia e anche molti criminali agirono come dire nell'impunità più totale. Perché? Perché la Repubblica Sociale Italiana si era letteralmente sfasciata. a metà maggio 1944 in Toscana la Repubblica Sociale Italiana non esisteva praticamente più come entità statale e le forze armate della Repubblica Sociale Italiana si scioglievano, si putrefacevano, si svanivano letteralmente come neve al sole. perché? Perché si trattava di un esercito insomma siamo sinceri detto fuori dai detti si trattava di un esercito fantoccio male armato male equipaggiato demoralizzato peggio ancora diretto perché ricordiamoci chi era il comandante dell'esercito della Repubblica Sociale Italiana l'Augusto imbecille Graziani che voleva fare un dispetto a Badoglio rendetevi conto del livello cerebrale dell'uomo cioè vabbè allora il discorso è semplicemente questo questo breve rapporto di un informatore questo breve rapporto di un informatore di polizia di un fiduciario cioè venivano chiamati fiduciari gli informatori dell'ovra durante il ventennio venivano chiamati fiduciari e questo fiduciario questa fonte fiduciaria certa ci illustra in poche parole in poche righe la spaventosa rapidissima e ingloriosa diciamoci la verità assolutamente ingloriosa fine fatta dalle forze armate della repubblica sociale italiana in Toscana chi diserta chi scappa chi non sa cosa fare l'assoluta incapacità dei comandi di agire senza ordini e ricordatevi quello che vi ho detto più di una volta quando ho parlato dello staracismo imperante nella società italiana ovvero sia dell'incapacità cioè della deresponsabilizzazione degli uomini che occupavano le leve di comando che praticamente senza un ordine gerarchico preciso non sapevano cosa fare perché? perché dovevano aspettare l'ordine che veniva dall'alto per agire non prendendo iniziative personali allora 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 in una situazione come quella della Toscana nel maggio 1944 mettiamola così ci fosse stato un ufficiale inglese un ufficiale tedesco un ufficiale americano quello che cavolo era avrebbero quantomeno preso iniziative di propria spontanea volontà per far rispettare la legge e l'ordine per far per evitare la liquefazione delle forze armate per evitare lo sfascio della lo sfascio totale della della situazione mi pare logico cioè insomma come dire se io ho un posto di comando in una determinata situazione io logicamente devo assumermi delle responsabilità di comando e agire cosa che come si evince dalle parole riportate da Petacco e dai suoi collaboratori degli informatori degli informatori dei fiduciari dell'ovra i comandanti fascisti della Repubblica Sociale Italiana non erano in grado di fare perché perché potevano agire solo con l'obbedienza agli ordini gerarchici insomma agli ordini provenuti dal gradino superiore della scala gerarchica che se ci pensate bene è una grandissima puttanata praticamente non erano in grado di io dico sempre questa gente per forma mentale per addestramento per cultura non era in grado di assumersi una responsabilità perché volevano sempre aspettare l'ordine superiore perché erano stati addestrati erano stati cresciuti nell'idea di rispettare rigidamente la scala gerarchica di rispettare rigidamente la struttura gerarchica militare cioè io prima di agire devo aspettare l'ordine non prendo iniziative e se ci pensate questa è una grandissima boiata perché durante la seconda guerra mondiale tutti mettiamola così durante la seconda guerra mondiale spesso e volentieri si videro compagnie e dico compagnie tedesche guidate da sergenti perché gli ufficiali erano tutti morti o feriti e la compagnia doveva essere comandata da qualcuno si faceva comandare dai sergenti che erano in grado di assumere decisioni che erano in grado di prendere decisioni che avevano autonomia decisionale e di comando cosa che qua in Italia non si sapeva dove stava di casa perché perché si doveva rispettare la scala gerarchica l'ordine dall'alto e le parole riferite da Petacco e dei suoi collaboratori sono piuttosto chiare in pratica i comandanti locali delle forze armate della Repubblica Sociale Italiana nella maggior parte dei casi nell'attesa di ordini di ordini superiori che non arrivarono mai cosa fecero si fecero praticamente tagliare l'erba sotto i piedi e assistettero impotenti allo sfascio al crollo totale e completo della situazione insomma un disastro detta così come quindi cari signori come sempre io aspetto le vostre considerazioni come sempre aspetto i vostri commenti come sempre aspetto le vostre opinioni quindi io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e come sempre arrivederci al mio prossimo video ciao